Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazi. Intanto vi do una news per quanto riguarda anche delle iniziative collaterali allo sport, un'iniziativa solidale perché Joara Boselli del Parma Femminile sarà testimonial di Andos per le visite gratuite di domeniche in piazza Fidenza per la prevenzione del tumore al seno, un'iniziativa solidale che vede il Parma Calcio Femminile molto vicino. L'Andos è l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, sezione di Fidenza nel corso di ottobre rosa, un mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. C'è questa iniziativa domenica dalle 9.12.30, dalle 14.17 in piazza Garibaldi a Fidenza. Sarà presente uno stand di Andos che offrirà visite senologiche con il dottor Salvatore Napolitano ed elettrocardiogrammi con il dottor Paolo Pattoneri. Compatibilmente con gli impegni sportivi ci sarà anche il Parma Femminile a sostenere l'iniziativa. Questo per quanto riguarda una parentesi solidale.